Che cos'è Ricomincio da me? La community di evoluzione personale. È un progetto semplice e ambizioso, come del resto dovrebbero essere tutte le cose che davvero contano nella nostra vita. È l'idea di dare un'opportunità, una risposta vera a tutte le persone che, seguendo il mio lavoro, mi chiedono quotidianamente consigli su come risolvere una difficoltà del momento. Ecco, il consiglio che risolve, secondo me, non esiste. In più, ogni difficoltà ci indica che possiamo crescere, che abbiamo ancora un pezzo di strada da fare nella conoscenza di noi. Allora, l'idea è quella di creare un gruppo di persone sinceramente alimentate dalla voglia di esprimere la propria vitalità, di conoscersi meglio, di risvegliare la vita che sono. Questo progetto si basa su tre principi fondamentali. Il primo è che l'interno determina l'esterno. Vuol dire che se voglio modificare le mie relazioni, la mia capacità di raggiungere obiettivi, la mia capacità di essere sereno, è inutile che guardo l'esterno. Se imparo a conoscere il mio mondo interno, ad accettarlo e a prendermene cura, allora potrò modificare davvero le relazioni, gli obiettivi e tutto quello che sembra esterno a me. Il secondo principio è che si cresce davvero insieme. Siamo esseri relazionali. Quando siamo connessi, quando possiamo condividere con altre persone la nostra esperienza, contribuire e prendere il contributo di altri, allora cresciamo davvero. Il terzo principio è che serve un percorso. Un percorso strutturato, delineato, guidato, che abbia degli step, che ci indichi una direzione, che ci porti da qualche parte. Sempre più spesso prendiamo informazioni a caso e poi ci sembra di non concludere niente. Ahimè, è vero. Ed ecco gli strumenti che Ricomincio da me può darti per migliorare davvero la tua vita. Ci sarà un gruppo privato su Facebook in cui tu potrai condividere la tua esperienza, confrontarti con gli altri e portare il tuo contributo, nutrendoti dei contributi degli altri. Ci sarà una live, un incontro live con me ogni settimana, in cui oltre a fare formazione su temi specifici, risponderò alle domande che sono emerse nel gruppo e che sono risultate le più interessanti per tutti durante la settimana. Quindi parleremo e ci confronteremo sulle vostre domande, sui casi pratici. In più ci saranno nuove risorse, nuovi contributi anche di colleghi esterni e ci sarà tanto altro. Ma l'importante non è riempirsi di informazioni, l'importante è sentirsi parte di un gruppo che vuole formarsi, praticare, evolvere. Tutto questo con la massima leggerezza, perché l'evoluzione personale non è qualcosa da studiare, qualcosa di noioso, ma è qualcosa che può essere divertente. Ultima cosa, tutto questo lo avrai sempre con te, perché puoi seguirlo da smartphone, da tablet o da computer, sostanzialmente ovunque tu sia. Spero di vederti nel gruppo, leggi i dettagli sulla pagina, compila il form della candidatura e se le tue aspettative sono in linea con quello che il gruppo sta facendo in questo momento, sarà un piacere accoglierti nella community di Ricomincio da me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.